La rinascita delle aziende agricole e zootecniche dipenderà dalle misure rapide e concrete che saranno messe in campo dalla nuova classe politica. E quanto sostiene la Col di Rettimolise, secondo la quale l'aumento insostenibile dei costi di produzione, la carenza di certezze sugli approvvigionamenti energetici, il conflitto in Ucraina e da ultima la siccità, sono problemi prioritari da risolvere al più presto e con concretezza. Gli aumenti, ha spiegato Giuseppe Spinelli, delegato confederale della Col di Rettimolise, riguardano l'intera filiera del cibo e per il settore agricolo e questi si concretizzano in un più 170% del costo per i concimi, più 90% per quello dei mangimi e più 129% per il gasolio agricolo, solo per citarne alcuni. Di qui l'invito dell'Associazione di Categoria a tutti i candidati di ogni schieramento a valutare il fatto che nelle campagne italiane più di un'azienda agricola su 10, pari al 13%, e in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività, ma ben oltre un terzo del totale nazionale, il 34%, si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari, stando i dati CREA. Col diretti, ha proseguito il direttore regionale Agnello Ascolese, ha elaborato cinque priorità per i primi 100 giorni di governo contenute nel manifesto politico approvato nel corso dell'ultima assemblea nazionale del 28 luglio. In sostanza cinque proposte, la difesa dell'agricoltura italiana con l'istituzione del Ministero dell'Agroalimentare, in Europa un no deciso al cibo sintetico e un si fermo all'origine in etichetta, alla sostenibilità e alla ricerca, ancora, il PNRR deve poter rappresentare la chiave per la sovranità alimentare, energetica e logistica del nostro Paese, stop ai cinghiali difendendo cittadini agricoltura e infine la creazione di un piano in vasi che garantisca acqua ed energia sostenibile per l'Italia.